Amici ma soprattutto amiche, oggi come dicevamo nel filmato precedente ci troviamo qui sul lago di Endine e c'è questo nuovo filmato perché purtroppo è stato ritrovato il cadavere, pochi istanti orsuno, del boliviano che domenica scorsa si era proprio inquato con il pedalò nel centro del lago di Endine e poi per circostanze ancora da verificare è caduto in acqua e purtroppo è stato il suo ultimo gesto Vedete che sono arrivati i carabinieri, il corpo è stato adagiato vedete ci sono arrivati due vedete adesso vediamo se riusciamo con le immagini a farvelo vedere vedete là è adagiato è adagiato sul porticciolo purtroppo siamo testimoni di questo tragico evento vedete adesso ci stiamo facendo vedere il punto esatto dove è stato trovato pochi istanti fa il corpo lo vedete ci troviamo poco distanti da ristorante Mickey ecco laggiù dove vi abbiamo fatto vedere prima il motoscafo dove stava illustrando la zona è stato trovato là e poi adesso è stato portato qui sul porticciolo del ristorante vedete si stanno asseppiando asseppiando, asseppiando, asseppiando diversi curiosi ecco laggiù tra poco arriverà il carro funebre per portarlo via ecco ecco queste sono le immagini in esclusiva vedete che ci sono i vigili al fuoco e i carabinieri tra un po' arriverà il procuratore capo bene direi che per il momento è tutto chiudiamo qui e ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti